62 tonnellate di amianto sono state raccolte e smaltite da Etra fra il 2018 e i primi mesi di quest'anno. La produzione di questo materiale pericoloso è stata bloccata anni fa ma in molte case sono ancora presenti oggetti e strutture che ne contengono parecchio come Eternit cisterne, canne fumarie, copriassi da stiro, guanti e molto altro ancora. Tutto quel che contiene amianto deve essere maneggiato e smaltito da professionisti ma la normativa non esclude che la rimozione di piccoli manufatti venga effettuata da privati cittadini. Per questo Etra in collaborazione con le amministrazioni comunali per agevolare gli utenti offre un servizio di smaltimento dell'amianto ad obicidio su richiesta e a prezzi calmierati. Grazie a questa attività sono state raccolte quest'anno già 27 tonnellate di materiale potenzialmente pericoloso. Il servizio è disponibile per gli utenti residenti tutti i comuni soci. Viene fornito un kit che permette la raccolta in sicurezza, viene effettuata l'apertura della pratica allo spisa, l'insieme delle delicate operazioni di rimozione o stoccaggio dei materiali e il loro confezionamento. Per aderire alla micro raccolta amianto proposta da Etra basta